Se da un lato la Regione Toscana investe 2 milioni di euro per le nuove imprese agricole, dall'altro è la manovra a Monti a togliere il sorriso agli imprenditori del settore. A riguardo la posizione di Giampiero Trettagni, presidente della Confederazione Italiana Agricoltori, è di estema preoccupazione. Con le nuove leggi, i principali interlocutori per le aziende diventeranno gli enti locali, in particolare comuni, in quanto è stato deciso di estendere l'IMU anche al settore agricolo, non tenendo conto che terreni annessi agricoli sono veri e propri strumenti di lavoro e non beni di lusso. A risentirne maggiormente saranno le piccole e medie aziende agricole, come quelle che caratterizzano il territorio lucchese. Per contestare le difficoltà che si prospettano è necessario, sottolinea Trettagni, rafforzare il processo unitario che porti le associazioni di categoria a parlare con una sola e più forte voce, un percorso che nella nostra realtà è già iniziato e che ora deve essere consolidato. Solo se uniti, prosegue il presidente di CIA, potremo fare in modo che le istanze di un comparto economicamente importante come quello dell'agricoltura non sia vessato da tassazioni che lo metterebbero in ginocchio.